Il prossimo 27 settembre ad Agropoli ricorrerà l'anniversario della morte di padre Giacomo Selvi, che dedicò la propria vita al servizio dei poveri e della Chiesa. Padre Giacomo morì all'età di 49 anni il 27 settembre 1987 nella cittadina agropolese. Durante la sua permanenza ad Agropoli dedicò il suo tempo, oltre che all'annuncio missionario del Vangelo, anche alla costruzione della Chiesa del Sacro Cuore insieme all'oratorio. Così, in occasione del 32esimo anniversario del transito al cielo, padre Giacomo sarà ricordato, come ogni anno, con una solenne messa di suffragio prevista per venerdì 27 settembre alle ore 19.30 nella Chiesa del Sacro Cuore. Ancora oggi il ricordo di padre Giacomo Selvi è vivo nella memoria di tantissimi agropolesi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo o di incontrarlo. Ben sette anni prima della sua morte, padre Giacomo dalla tumba di San Francesco in Assisi compone il suo testamento spirituale, in cui, con poche parole chiare e semplici, esprime l'infinita preziosità dei suoi insegnamenti, orientati ad avvicinare a Dio quanti rimangono ancora su questa terra. Da una prima analisi sembra che quanto scritto sia frutto di una illuminazione interiore improvvisa che invita la sua mano a stendere l'angoscioso messaggio di getto, quasi una sfida al futuro rilevato, semplici pensieri scritti distinto dalla mano di chi, pur avendo dato tutto quanto aveva da dare, chiede comunque perdono, pur essendo consapevole di aver amato tutti e che fra poco tempo ancora inizierà il suo cammino verso la casa del padre, nella speranza di un abbraccio comune con tutti noi quando Dio vorrà.